buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 7 maggio 2024 e vediamo subito chi si festeggia sfogliando l'almanacco del giorno nella giornata di oggi ebbene è una santa il cui nome comincia un po a dilagare insomma essere usato anche ai giorni d'oggi anche se un nome molto molto antico oggi si festeggia santa flavia domitilla era nipote dell'imperatore domiziano e fu perseguitata da un pretendente che lei ovviamente non voleva non voleva sposare il quale scoperta la cristiana la fece esiliare nell'isola di ponza nonostante che fosse una parente stretta dell'imperatore finché poi morto domiziano è venuto e salito al trono traiano ebbene fu messa a morte fu martirizzata e fu martirizzata a terracina quindi siamo sempre nella costa laziale e le sue reliquie si trovano nelle catacombe che portano il suo nome a roma accanto a quelle dei santi ma è nereo achilleo anche loro anche loro martirizzati nella stessa epoca siamo dunque nel primo secolo dopo cristo vediamo anche le previsioni del tempo il tempo oggi si sta rannuvolando vediamo la grafica eccola qua e vediamo le nuvole e ieri il cielo era così insomma instabile oggi hanno prevalso le nuvole un contesto dunque di grande instabilità con deboli piogge al primo mattino seguite da qualche acquazzone temporalesco verso il tardo pomeriggio quindi le condizioni peggiorano andando avanti nella giornata i venti sulle coste spireranno con una tensione nonostante tutto debole da nord est così come nell'entroterra le temperature 13 la minima 21 la massima il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 52 tramonterà alle 20 e 15 e quindi possiamo dopo questa prolusione aprire i giornali ad iniziare con il resto del carlino questa mattina che ha in apertura la cronaca ecco subito il titolo il pomeriggio al bar finisce a botte carabinieri costretti al placcaggio ebbene è accaduto che un cinquantenne ubriaco ubriaco molesto è stato da prima allontanato da un locale si tratta dello chalet del sol che si trova ai viale ruggeri a sassonia sud nel lungomare di fano e finisce a botte insomma aveva dato in escandescente in escandescenze e i carabinieri sono stati costretti al placcaggio prima è stato allontanato dal locale è stato malmenato questo 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 ragazzo insomma e poi quando qualcuno lo ha aiutato prima di tutto sono passate delle auto senza guardarlo nonostante che lui fosse esanime nel terreno c'era solo vicino un cane vicino a lui poi qualcuno ha il proprietario del locale soprattutto si è avvicinato ha cercato di rimetterlo in sesto poi sono arrivati anche i mezzi di soccorso sono arrivati i carabinieri e questo qui forse in preda ai fumi dell'alcol ha reagito inconsultamente e quindi i carabinieri sono stati costretti a denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale insomma un episodio un po' vivace che si è verificato sul lungomare di fano nella giornata di ieri ma vediamo ancora altri episodi di cronaca vede la polizia e fugge preso davanti alla scuola questo durante un normale una normale operazione di controllo che gli agenti avevano fatto in piazza amiani a pesa a fano uno dei centri più controllati del centro storico uno dei punti più controllati del centro storico dove avvengono spesso episodi legati allo spaccio degli stupefacenti ma anche risse e problemi causati dai dai senza dimora insomma da quelli che non hanno un punto di recapito fisso ebbene un ragazzo che appena visto la polizia era fuggito è stato rincorso ed è stato fermato davanti alle scuole corridoni proprio nel momento in cui c'erano tanti genitori in attesa dell'uscita da scuola dei loro figli e quindi l'episodio ha così scaturito ha sollevato una emozione da parte dei genitori che hanno assistito alla scena e poi una denuncia per quanto riguarda la situazione ambientale del pronto soccorso di fano non si tratta di mala sanità nel senso di prestazioni in ritardo oppure non idonee al genere di malattia che presenta un paziente si tratta invece di una situazione ambientale infatti una signora che ha dovuto ricorrere alle prestazioni del pronto soccorso per il marito l'ha accompagnato alla sera del 3 maggio scorso ebbene ha trovato una situazione certo non edificante soprattutto per quanto riguarda le richieste che sono state fatte c'era una persona che aveva dei dolori ha chiesto una tacchipirina ma insomma gli infermieri non sono stati in grado di dargliela oppure un bambino che aveva bisogno di coperte perché sentiva freddo ebbene nemmeno queste erano nelle possibilità degli infermieri di esaudire questo desiderio oppure i bagni che secondo le testimonianze che sono state fornite non erano puliti come avrebbero dovuto essere e anche la situazione dell'ambiente con un pavimento rabberciato con i nastri adesivi li vediamo qui nella foto insomma una situazione abbastanza strana diciamo così al pronto soccorso dove l'ambiente non è certo il migliore per accogliere coloro che si trovano poi in una situazione critica perché stanno male critica sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico e quindi una denuncia che richiama l'attenzione soprattutto degli organi politici in primo punto la regione Marche su cui grava la responsabilità dell'assistenza sanitaria e poi anche a pioggia a tutti gli organi inferiori compreso l'amministrazione comunale e tiri in causa anche i candidati che in questi giorni stanno girando per la città evidenziando i problemi cercando di così con i loro programmi di opporre i loro correttivi questo qui non è un pronto soccorso è il titolo che riassume tutte le cose che non vanno nel pronto soccorso di Fano cerca la mamma un ragazzino minacciato un ragazzino di 14 anni i genitori separati cercava la mamma ma un parente lo ha minacciato con parole molto molto dure e finiscila se no la testa la devo aprire prima a te e poi a papà tuo e poi ti spacco la testa quando ti vedo va bene insomma queste sono le parole terribili che una persona avrebbe denunciato ad un quattordicenne che cercava di mettersi in contatto con la mamma la mamma separata che cosa era accaduto ai genitori un litigio tra il padre e la madre del ragazzo che ha portato alla separazione sarebbe avvenuto a seguito del ritorno a casa del padre per un periodo di detenzione legato a reati fiscali al rientro a casa l'uomo avrebbe scoperto un tradimento della moglie che a seguito del litigio se ne sarebbe andata in Puglia dai parenti insieme all'altra figlia però insomma il ragazzo era rimasto nel nostro territorio il ragazzino quindi avrebbe cercato di mettersi in contatto con la madre scatenando però le ire del parente vediamo se riesco a farti paura a te e a papà ok gli avrebbe detto ancora questo parente il tutto è stato rievocato davanti al giudice del tribunale di Pesaro e l'udienza è stata rinviata al novembre prossimo insomma si vedrà che cosa accadrà l'adolescente era così terrorizzato da non volere più uscire di casa questo è un po' quello che accade in questa situazione ed ora andiamo nell'entroterra e vediamo che a Marotta si parla di letture si parla di libri, si parla soprattutto della manifestazione come un libro all'aria aperta che viene gestita da un personaggio molto molto noto che è Bartoletti Bartoletti, Marino Bartoletti, noto giornalista, commentatore sportivo ma in questo caso è un po' il direttore artistico della manifestazione e a Marotta un'estate tutta da sfogliare sono stati resi noti i big che parteciperanno all'evento ebbene i big sono Walter Veltroni lo vediamo qui nella foto poi Cocchi il noto artista che era insomma con Pozzetto facevano una coppia insieme e poi Serena Bortone Walter Veltroni, Aurelio Ponzoni in arte Cocchi Serena Bortone, Enrico Ruggeri, Maurizio De Giovanni sono solo alcuni dei grandi protagonisti della terza edizione di Come un libro all'aperto che si svolgerà tra Mondolfo e Marotta dal 18 giugno al primo agosto sono degli appuntamenti che vengono così organizzati nel tempo e poi i giornali questa mattina evidenziano una donazione che è stata fatta alla Fondazione Carifano in merito al Museo di Scienze Naturali è un museo questo molto molto bello ricco ricco di grandi reperti di interessanti reperti di mineralogia di malacologia soprattutto anche di fossili quindi un museo che riguarda i primordi della Terra ebbene a questo museo sono stati regalati dei minerali stupendi veramente molto belli un centinaio di minerali che facevano parte della collezione di Mario Pierini che è deceduto lasciando però in volontà e quindi la moglie ha eseguito le volontà del merito la moglie si era Angela Vampa di regalare alla sua morte la collezione di questi minerali al museo che si trova a Palazzo Bracci Pagani un museo che è stato attivato dal Circolo Castellani insomma già ricco di per sé di fossili di tante tante meraviglie ci sono anche dei fossili che riguardano degli itiosauri degli animali preistorici denti di mammut ci sono anche come le curiosità delle deiezioni che risalgono a milioni e milioni di anni fa insomma sono le cacche dei dinosauri per intenderci e sono una piccola curiosità che è esposta nelle vetrine di Palazzo Bracci Pagani ma i minerali sono veramente molto belli sono dei quarzi limpidissimi bianchi colorati con dei colori molto molto tenui e poi anche delle formazioni di diversa natura di diversa composizione chimica che veramente hanno una danno una spiegazione scientifica a quello che è accaduto nel corso del passato nella Terra insomma è un museo da visitare detto in parole povere vediamo a D'Urbino dove si è verificato un accordo tra l'ERDIS e l'AST per le strutture ricettive i collegi universitari potranno essere usufruiti anche dal personale dell'azienda sanitaria e anche dai parenti dei pazienti che vengono ricoverati all'ospedale di Urbino nasce una nuova sinergia tra l'ente per il diritto allo studio appunto l'ERDIS e la sanità in arrivo anche campagne di prevenzione per gli studenti quindi un nuovo accordo e poi parliamo della mostra sul Barocci che Urbino si appresta ad organizzare con l'inaugurazione il prossimo 20 giugno per la mostra su Federico Barocci in città tornano opere dopo secoli e c'è anche un capolavoro che acquista attenzione nel mondo dell'arte ritorna ad Urbino la Madonna della Gatta la Madonna della Gatta che viene conservata Palazzo Pitti a Firenze si tratta di un'opera commissionata dal Duca Francesco Maria II della Rovere che mostra la Sacra Famiglia di Gesù sulla destra e la famiglia del cugino di San Giovannino Giovanni Battista sulla sinistra e al centro c'è un piccolo cammeo c'è una gatta che allatta i gattini ecco perché viene chiamata la Madonna della Gatta insomma una curiosità ma anche una delicatezza d'animo che ha mostrato Federico Barocci nel dipingere questo quadro un quadro molto molto bello passiamo ora alle pagine pesaresi pubblicate dal resto del Carlino dove in città c'è l'amarezza per la retrocessione della VL ci sono anche diversi commenti non molto belli ecco VL mosse per il futuro nuovo presidente in arrivo e già dentro al consorzio e Berretta potrebbe restare esclusa comunque l'ipotesi che Ario Costa che è stato presidente della VL nell'ultima stagione 2013-2014 pur dimettendosi resti con un ruolo di consulente insomma Ario Costa un po' ora si dissocia i giocatori decadono tutti i contratti compreso il biennale del coach Buscaglia ora andatevene i tifosi ancora all'attacco certo che è difficile digerire una retrocessione per quanto riguarda il basket a Pesaro è lo sport più amato lo sport più seguito e quando purtroppo ci sono queste delusioni lo scoramento è grande e lo scoramento sconfina anche nella protesta un'altra pagina dedicata lo traveremo poi anche sul Corriere Adriatico dedicata appunto alla delusione per la retrocessione della VL parliamo per del caso della Trevalli Fattorie Marchigiane l'azienda di di Monte Maggiore al Metauro ora spunta l'ipotesi di fermare la produzione l'azienda prevista attività di controllo dei processi intanto i prodotti non andranno alla fiera Cibus di Parma dice il sottotitolo pubblicato dal resto del Carlino dopo una prima perquisizione condotta dai NAS di Ancona e dagli ispettori del Ministero del 22 aprile scorso sono emersi i primi risultati delle analisi chimiche effettuate dall'Istituto Zooprofilattico di Perugia che riportano una carica microbica superiore alla norma nei campioni analizzati quindi qualcosa di non regolare è stato trovato questo lo afferma appunto il giornale questa mattina c'è un appello della Croce Rossa perché si trovi un appartamento a Pesaro un appartamento per una famiglia che è fuggita dalla Libia fuggendo dalla guerra la Croce Rossa ha ospitato i componenti di questo gruppo da un anno e mezzo ma ora serve un alloggio nuovo contattatici dicono appunto gli operatori della Croce Rossa ed ora passiamo al Corriere Adriatico vediamo l'apertura dedicata a Fano e vediamo come si tratta di una protesta che viene che sorge da alcuni residenti di Via del Ponte di Via del Ponte un quartiere di San Lazzaro ebbene qui alcuni proprietari sono gli inquilini delle case popolari che hanno riscattato i loro appartamenti sono diventati proprietari protestano nei confronti dell'ERAP perché che cosa è accaduto ci sono alcuni inquilini che non sono ancora proprietari ma che pagano l'affitto non pagano purtroppo le quote condominali e questo ha spinto l'amministratore non avendo appunto le risorse necessarie a ridurre le ore di riscaldamento nel scorso inverno 5 ore al giorno 5 ore al giorno sono effettivamente poche va bene che l'inverno scorso non è stato particolarmente freddo ma insomma punte non agevoli si sono verificate tant'è che vi ricordate che fino alla fine di aprile il sindaco dovuto così riemettere un'ordinanza per prolungare le ore di riscaldamento invece questi proprietari di appartamenti in via del ponte hanno avuto solo 5 ore di riscaldamento così pagato con le quote condominali hanno dovuto attivare le stufette elettriche quindi con una maggiore onere a carico delle loro famiglie e quindi vediamo il titolo bollette non pagate nel condominio al freddo anche i residenti in regola i residenti del complesso AERAP sta a lente coprire le quote in evase ma fa orecchie di mercante ebbene si fa riferimento anche ad un regolamento regionale in modo particolare all'articolo 12 che prescrive come se gli inquilini non pagano dovrebbe essere il proprietario a subentrare per pagare le quote che sono dovute che sono prescritte vediamo anche sul Corriere Adriatico la donazione Pierini che è stata fatta alla Fondazione Carifano per quanto riguarda i cristalli molto molto belli abbiamo detto al Museo di Scienze Naturali di Palazzo Bracci Pagani un museo che dovrebbe essere riscoperto dalla cittadinanza perché è veramente molto bello è situato al secondo piano del palazzo di solito ci si ferma al primo piano dove si svolgono le mostre d'arte ma salendo ancora si trovano veramente delle meraviglie e tante tante curiosità dovrebbe essere un punto un centro frequentato anche di più dalle scuole vediamo le altre notizie pronto soccorso bocciato né coperte né tacchi Pirina il racconto di una utente si tratta di Rita Fusco una signora che ha accompagnato il marito per una prestazione al pronto soccorso e si è veramente meravigliata nel trovare una situazione ambientale che lui e lei stessa definisce una vergogna il racconto di una utente personale impagabile ma l'ambiente è in sfacere personale veramente tocca veramente fargli un monumento perché come cortesia come accoglienza e come anche professionalità è al top e poi vediamo un'anticipazione che si riferisce al festival Boomerang Rewind Ciccio Graziani all'anteprima il festival ispirato anche dalla contemporaneità con i campionati europei si svolgerà dal 20 al 23 giugno tra Lido e Arzilla e avrà un ospite d'eccezione quest'anno Ciccio Graziani uno dei campioni del mondo dell'82 a connotare appunto l'anteprima della manifestazione passiamo anzi restiamo a Fano anche se siamo sulla pagina della Val Metauro ebbene il Comune ha incassato tanti soldi in più rispetto agli anni passati e dalle multe degli autovelox quegli autovelox che al momento non sono attivi perché sono stati spenti a causa di un ricorso che è stato presentato da autovelox e sanzioni 1,8 milioni per la sicurezza ebbene soldi in più che l'amministrazione comunale impiegherà per aumentare speriamo bene la sicurezza nelle strade è la cifra che il Comune ha deciso di destinare per migliorare la viabilità impennano gli incassi pensate quanti automobilisti non osservavano le regole anche non osservano le regole adesso magari anche con l'autovelox spento qualcuno azzarda ancora di più non osservavano le regole di velocità ecco perché i residenti di Metauriglia sono molto molto preoccupati perché hanno sopportato in passato tanti tanti incidenti anche mortali ed ora passiamo veramente nell'entroterra e vediamo il successo ottenuto a Chiaserna dalla fiera dei cavalli Cantiano non fallisce l'evento top del mondo equestre migliaia di persone nel weekend contesto unico e grande ricchezza di occasioni il cavallo suscita sempre un certo fascino è uno degli allevamenti che si sta perdendo purtroppo e a Chiaserna è rimasta veramente l'unica razza originaria del nostro territorio vediamo ancora la pagina di Senigallia siamo in conclusione nel ristorante tre dipendenti nero chiuso un giorno però sono stati subito regolarizzati è il pugno duro della finanza che in cinque mesi ha sanzionato e sospeso tre attività per contratti assenti o irregolari ebbene questo nuovo caso si è verificato a Senigallia dove appunto il proprietario si è messo subito in regola per non incorrere poi in sanzioni ancora più gravi era l'ultima notizia a questo punto possiamo chiudere i giornali e darvi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 intanto vi auguro una buona giornata e a risentirci che che